Due argomenti molto interessanti in un posto splendido, complimenti per l'organizzazione e per il posto. La croma on claveare è un argomento molto dibattuto perché non esiste ancora un intervento ideale e bisogna stare molto attenti a selezionare l'atleta o il paziente che ha una lesione della croma on claveare per capire qual è il migliore trattamento conservativo, qual è il migliore trattamento chirurgico e che tipo di tecnica adottare per il pieno recupero della spalla. Abbiamo cercato di esaminare le migliori tecniche, tecniche mini invasive in cui si cerca proprio nello sportivo di non distaccare le inserzioni muscolari. Abbiamo valutato anche le ultime novità con i famosi endobatton in associazione con legamenti o artificiali o biologici. Nell'ultima trattazione e nell'ultima discussione ormai la chirurgia italiana va verso il biologico. Le fratture della testa dell'omero devono essere studiate attentamente. Bisogna fare un ottimo planning preoperatorio, un attack 3D per capire che tipo di riduzione fare. A quel punto il chirurgo deciderà il mezzo di sintesi migliore. Abbiamo parlato dei pro e dei contro delle placche e anche delle protesi. Certamente in un ambiente sportivo è ovvio che la riduzione fatta in tempi precoci con un'ottima stabilità è il motivo principale per avere poi un ottimo risultato.